Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha firmato un'ordinanza per garantire misure di sicurezza ai lavoratori che operano all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo, floro vivaistico ed edile. Nello specifico, fino al prossimo 31 agosto è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16 sull'intero territorio regionale e nelle aree interessate dallo svolgimento del lavoro. Restano salvi i provvedimenti sindacali riferiti al territorio comunale che non contrastano con l'ordinanza e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le prescrizioni dell'ordinanza non si applicano per le pubbliche amministrazioni e per i concessionari di pubblico servizio, protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità. Si dice soddisfatta dell'ordinanza la Filca Cisle, il sindacato dell'edilizia, che specifica come la nuova direttiva si possa applicare anche ad aziende affini come le cave di inerti e lapidei e a tutti i settori non proteggibili dal sole. In passato il sindacato aveva sottoscritto sul territorio già accordi di cantiere e aziendali per rimodulare l'orario di lavoro, prevedendo pause aggiuntive o organizzando la rotazione dei lavoratori esposti al sole.